In questo nuovo video sul tornio andremo a creare una terrina in argilla pirofila che può andare sia sulla fiamma sia al forno che i francesi chiamano anche cocotte e come al solito lo faremo sul tornio super economico come al solito vi lascio il link in descrizione per acquistarlo ma soprattutto vedremo come creare una base d'argilla dove appoggiare delle nostre basette in legno per poi tornire i nostri oggetti sopra mettiamoci al tornio e vediamo come fare questa terrina Allora adesso andiamo a creare la base di argilla su cui poggiare la basetta in legno sulla quale torniremo la nostra terrina andiamo ad aprire l'argilla spingendo prima sul fondo e poi pian piano tirando verso di noi quindi portandola verso l'esterno dobbiamo formare un altro piatto di argilla sopra il piatto in metallo ripartiamo dal centro spingiamo un poco verso il basso tiriamo verso di noi portiamo l'argilla verso l'esterno per coprire tutto il piatto di metallo lo facciamo un'altra volta bagniamo per bene ci fermiamo al centro troviamo il centro e spingiamo l'argilla tirandola verso di noi in questo modo qui cerchiamo di uniformare il piatto in questo modo qui cerchiamo di renderla piana col dito sentiamo dove sono le curve se ci sono curve troppo grosse schiacciamo un pochino ok adesso con la stecca creiamo dei cerchi concentrici stando fermi in un punto così due tre quattro cinque e fermiamo il tornio questi cerchi creeranno dell'aria che tratterrà la nostra base in legno facciamogli poi due righe nel centro in questo modo qui e adesso siamo pronti per poggiare la nostra basetta cerchiamo di poggiarla il più al centro possibile in questo modo facciamo girare piano il tornio per assicurarci che non tocchi gli spigoli non tocchino sul nostro piano ok con una spugna lievemente umida spingiamo dal centro verso l'esterno per far aderire la basetta in legno facciamola anche con le mani spingiamo verso il centro in questo modo qui fermiamo il tornio e proviamo leggermente a sollevarla e vedete che è ferma abbastanza ferma con le mani creiamo un piccolo segno per vedere dove è il centro della nostra basetta fermiamo il tornio e poggiamo la nostra argilla pirofila cerchiamo di metterla il più al centro possibile e la premiamo un poco e iniziamo la centratura quindi lavoreremo completamente sulla basetta farò una centratura veloce se volete potete andare a vedere i video sulla centratura sul canale dove è spiegata con calma per bene aumento un po' con la velocità del tornio porto in basso e centro quello che farò adesso è aprire la base della mia terrina e lascerò però una base lievemente più spessa perché essendo una terrina pirofila andrà a contatto col fuoco e quindi non voglio una superficie troppo sottile a contatto col fuoco perché potrebbe creparsi facilmente quindi spingo verso il centro e apro senza esagerare lo faccio inumidisco un po' e lo faccio un'altra volta lasciando un centimetro di base tiro verso l'esterno in questo modo qui adesso lascio stare il centro quindi spingo solo l'argilla lievemente verso l'esterno in questo modo qui e la spingo adesso spingo i bordi verso l'interno in questo modo qui per creare il mio bordo ok spingo ancora un pochino dal centro se mi accorgo che la base è troppo spessa spingo dal centro verso l'esterno in questo modo cerco sempre di tenere con ben compresso il bordo posso anche andare in questo modo col pollice dal centro verso l'esterno in questo modo qui adesso spingo l'argilla verso l'interno e lievemente verso l'alto assottiglio lievemente la parete e spingo il bordo comprimo il bordo asciugo l'interno e adesso andrò a creare la curva esterna quindi faccio una C con le mani rientro lievemente verso l'interno e adesso crea un po' la sbasatura del bordo in questo modo qui asciugo un poco le pareti e andrò ad accentuare la curva esterna rallento il torneo un poco prima di tutto chiudo un poco il bordo esterno verso l'interno con il polso faccio questo movimento verso l'interno si appoggia qui e qui l'argilla e anche al pollice chiudo la mia forma accentuo partendo dal basso lievemente questa curva ancora 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 qui mi fermo e svaso verso l'esterno in questo modo qui rendo piano l'interno con la spugna tolgo un poco di barbottina dall'esterno e in questo momento mi aiuto con la spatola di ferro e l'appoggio sulla mia forma seguendo la sua curvatura e tolgo la barbottina in eccesso in questo modo qui e poi con la parte curva e la parte superiore la posso lasciare un po' più umida e la vado a sistemare col dito in questo modo qui pollice e indice della mano sinistra comprimono e tengono il bordo e il medio l'indice della mano destra comprimono il bordo in questo modo qui tolgo il piedino il solito piedino dal fondo in questo momento stoppo il tornio mi asciugo le mani e passo il filo di nylon un paio di volte sotto la terrina uno e due a questo punto la terrina è finita e invece di sollevarla direttamente dal piatto non potremmo anche perché si deformerebbe potrebbe collassare quindi potrebbe bucarsi quello che facciamo è togliamo la nostra basetta in legno dal piano semplicemente staccandola e portandola verso l'alto in questo modo qui e vedete la basetta si stacca tranquillamente una volta che sarà asciugata potremo togliere la terrina dalla basetta super facile questo metodo ci ha risparmiato un sacco di fatica